Buongiorno, sono Giorgia Sovran, avvocata partner di DLS & Partners e oggi ti parlerò della riforma Cartabia sul reato di lesioni stradali gravi e gravissime. Tale reato era stato introdotto nel 2016, ma la sua perseguibilità d'ufficio aveva sollevato perplessità. La riforma ha reso il reato perseguibile solo a querela di parte, con esclusione di quei sinistri stradali derivanti da violazioni gravi delle norme del Codice della Strada. La riforma è entrata in vigore il 1 gennaio 2023 e per i sinistri successivi a tale data è necessario proporre querela presso la Procura della Repubblica competente. In caso contrario, il reato non verrà perseguito e verrà dichiarato istinto. Lo scopo della norma è quello di evitare procedimenti penali inutili e non accompagnati dall'interesse della persona offesa dal reato. Se sei un cliente DAS puoi chiedere maggiori informazioni tramite il servizio di Consul DAS.